Siamo partiti anche quest'anno con il progetto Sunici qui al campo di Suna, quest'anno è il secondo anno del progetto e la risposta quest'anno è stata ancora più grande rispetto all'anno scorso, i ragazzi sono 21 bambini iscritti, abbiamo accolto come sempre qualsiasi tipo di disabilità, qualsiasi tipo di difficoltà e la società quest'anno si è impegnata molto anche perché siamo arrivati a settembre, abbiamo finalmente un bellissimo campo sintetico che ci permette di riuscire a fare l'attività ancora meglio. Rispetto allo scorso anno, quest'anno abbiamo coinvolto maggiormente gli allenatori della società e i ragazzi della prima squadra che ogni sabato mattina ci aiutano qui sul campo, sono sempre numerosi, anche stamattina eravamo tanti, anche perché per questi bimbi serve seguirli praticamente in uno a uno e quindi riusciamo ogni sabato grazie alla società, grazie agli suoi suoi di tutti a riuscire a fare delle bellissime giornate. Qui vengono con noi anche due ragazze, due dottoresse che sono Mirta Vegnani, dell'Onora Metti, una psicologa che segue le famiglie all'esterno e una psicomotricista che ci ascolta e ci aiuta ogni sabato con i bambini sull'attività sul campo. Quest'anno siamo riusciti a dare dei percorsi un pochettino più specializzati e personalizzati per i bambini, grazie a loro e tutto questo è sicuramente in merito di tutta questa gente che c'è qui oggi al campo, della società e qualche aiuto esterno, ringraziamo soprattutto Plastipac per averci aiutato nel terreno sintetico e per aver aiutato anche a vestire tutti i bambini. Il progetto ricordo che è completamente gratuito, quindi chiunque voglia accedere a questo percorso è benvenuto. Il sabato mattina il Voluntasuna organizza questa bella iniziativa con un forte contenuto sociale che è una prerogativa di questa associazione che riguarda sia la dirigenza che gli allenatori, quindi un modo anche per recuperare una forma di stare insieme che si è un po' persa per i periodi complessi che abbiamo vissuto. Ne approfitto all'accesa Voluntasuna, approfitta stamattina della presenza del sindaco Marchionini per ringraziarla a fine e completamento dei lavori fatti, non ultimo il nostro sintetico.